buongiorno amici ben ritrovati sul russian watches review uno dei pochi spazi online dedicati all'orologeria sovietica nel video di oggi vi presento un orologio che ho messo nella rubrica del sacro graal non tanto per la sua rarità ma per il fatto che ho il piacere di farvelo vedere completo di corredo di vendita italiano originale sto parlando dello slava medical e qui lo vedete in versione full set come sempre vi invito a lasciare un like a questo video iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e seguirmi anche sui social trovate i link di riferimento in descrizione per me è un piacere accogliervi nonché un incentivo a proseguire questo cammino virtuale insieme a voi veniamo allo slava medical adesso innanzitutto devo dire che potete trovare questo orologio abbastanza facilmente su ebay è facile trovarlo in vendita ma i prezzi non sono proprio quelli a cui gli orologi russi ci hanno abituato questo orologio è stato prodotto dagli anni 80 in poi quindi si possono trovare sia esemplari sovietici che successivi poi il medical ha vissuto anche un suo periodo di esportazione ed è proprio di questo che voglio parlarvi lo slava medical del video quindi è un esemplare esportato negli anni 90 dalla russia all'italia per essere venduto nelle orologerie e nelle gioiellerie dello stivale presumo che la società importatrice sia la mirabilia e l'indizio che mi ha portato a questa conclusione personale è la scatola la scatola di questo slava infatti è del tutto simile a quella usata per i racheta importati appunto dalla mirabilia del tutto simile tranne che per il colore che è un po più cari un po più chiaro rispetto al rosso del dell'importazione racheta e naturalmente anche la scritta slava al posto della scritta racheta aprendo la scatola vediamo il solito tessuto dentro che protegge l'orologio ed ecco qui che esce lo slava medical già potete vedere una cassa insolita rispetto agli orologi fino ad adesso presentati qui sul mio canale qui infatti andiamo abbiamo a che fare con una forma rettangolare e che misura circa 36 per 40 mm il fondello dietro è fissato da un anello a vite mentre il movimento è un 24 28 a carica manuale questo calibro ha la funzione day date che sul quadrante possiamo riscontrare alle ore 6 e ha anche lo scatto rapido della data azionabile mediante il pulsantino posto a ore 2 sulla cassa del quadrante vi parlo dopo spiegandovi anche la sua funzionalità ora proseguirei con il corredo di vendita quindi oltre alla scatola vediamo subito che l'orologio è dotato anche di un cinturino marrone marchiato slava cccp questo cinturino non si trova su nessun altro moderno nel modello all'infuori che questo e le produzioni dedicate sono molto importanti quando si va a collezionare qualcosa che ha circa 30 anni di storia poter apprezzare un cinturino pensato per un singolo modello è sempre qualcosa di bello oltre al cinturino abbiamo anche un tagliando fatto a forma di sigillo di garanzia recante anche il prezzo di 120 mila lire e ancora andando avanti abbiamo il foglietto recante alcune specifiche tecniche e una card grigia che fungeva da certificato di garanzia questo è il set completo che accompagnava l'orologio quando lo si acquistava nei negozi italiani all'inizio degli anni 90 questo set di vendita aveva secondo me sempre la stessa funzione ovvero quella di dare dignità a un prodotto che andava sì di moda negli anni 90 ma che era pur sempre facile trovare anche nei mercatini dell'usato proprio per la particolare natura di quella moda che era scaturita con l'arrivo in italia di persone russe o comunque provenienti da quell'area geografica e che quindi rivendevano i propri oggetti usati fra cui proprio gli orologi attraverso i corredi quindi si impreziosiva l'oggetto rendendolo adatto anche alle gioiellerie e alle orologerie che potevano venderlo a un target di clientela capace di spendere cifre diverse nella fattispecie penso che lo slava medical andava addirittura a fare concorrenza alle penne montblanc e mi spiego subito il mio non è un azzardo ma penso che l'intenzione degli importatori era anche quella di offrire in qualche modo una interessante alternativa a chi andava in orologeria o in gioielleria con l'obiettivo di fare un regalo per una laurea magari una laurea in medicina ecco quindi che lo slava medical poteva diventare un bellissimo regalo per una laurea ma il mio è solo un esempio se ne potrebbero fare mille altri analizzato ciò che rende fra virgolette italiano questo orologio quindi il corredo ora parliamo del quadrante come possiamo vedere il quadrante è bianco e alla grafica rossa lo stemma in alto rimanda al mondo medicale e a destra e sinistra del quadrante troviamo una scala graduata che ha una sua precisa funzione in ambito medico questa è la piccola chicca che volevo spiegarvi ovvero come leggere questa funzione innanzitutto chiariamo che la funzione è quella di capire la pressione sanguigna e fin qui ci siamo ma come si fa a capirlo sul quadrante troviamo le istruzioni sia in cirillico che in inglese in pratica bisogna prendere il polso del paziente per sentire i battiti del cuore quando la lancetta dei secondi è sullo 0 oppure sul 30 bisogna iniziare a contare i battiti la lancetta dei secondi facilita la lettura grazie all'hollipop cioè al pallino rosso che ha alla sua estremità quindi diciamo che una volta iniziata la misurazione bisogna contare 15 battiti e al quindicesimo battito vedere la posizione raggiunta dall'hollipop rosso della lancetta dei secondi in base alla posizione occupata in quel preciso istante saremo in grado di capire il valore da attribuire alla pressione del sangue più la lancetta si allontana dallo 0 o dal 30 di riferimento e più il battito è lento e quindi la pressione bassa certo non è un metodo precisissimo ma penso sia comunque una delle funzioni più carine in ambito medicali medicale e soprattutto una delle curiosità più interessanti di cui ho mai parlato su questo canale youtube terminando sul quadrante aggiungo che la dicitura sdelano cccp è presente sia sui modelli più datati provenienti dalla russia che su questi immessi nel mercato ufficiale italiano però certo sempre prodotti e quindi provenienti dalla russia però per un altro scopo ecco per lo scopo di esportazione in conclusione vi chiedo se volete un altro video sullo slava medical un video però in cui parlerei di argomentazioni economiche se ricordate il video in cui analizzavo il valore odierno del cronografo vostro posto relazionandolo ai prezzi d'acquisto degli anni 90 di cui vi lascio il video in descrizione ecco veramente di fare una cosa del genere potrei affrontare lo stesso tema di quel video ma con questo slava medical come protagonista fatemi sapere allora io intanto vi rinnovo l'appuntamento alla prossima avventura ciao